Non so cosa significa di dove sei. Io penso che, il mio personale, penso che in questa società globalizzata chiedersi dove sei sia abbastanza stupido, nel senso che siamo stati sulla luna, ci siamo accorti che il pianeta è uno e siamo tutti sulla stessa pianeta e quindi penso che siamo esseri umani e penso che la domanda giusta dove sei sia quella la risposta. Però nel dove sei canonico non ho mai capito cosa risponde, non ho capito se risponde l'italiano, arabo, bresciano, non lo so. Mi sono accorto che era un arricchimento nel momento in cui mi accorgevo di avere due punti di vista con cui analizzare lo stesso fatto, a differenza di tutte le altre persone che avevano solo uno, sia quello italiano, il posto dove sono nati. E questa cosa qua nella mia vita mi ha dato un grandissimo aiuto e dal momento in cui l'ho capita, da lì la sensazione di orgoglio è sempre solo più cresciuta, in quanto lo vedevo come un più e non un meno il fatto di avere questo dualismo.